Proseguono i movimenti di mercato della Saturnia Cicastello, che si prepara alla prossima stagione del campionato di volley in Serie A2. Luca Basic rimane in Sicilia ed è la prima riconferma del roster della società castellese per la stagione 2024-25. Lo schiacciatore francese, alla richiesta di indossare di nuovo i colori bianco-blu per affrontare il campionato di volley di Serie A2, non ha avuto alcun dubbio perché in questo anno di Superlega, con la società, con i tifosi e con il territorio, ha creato un legame speciale. Basic, che nella scorsa stagione ha giocato 22 partite e messo a segno 121 punti con 5 ace e 110 attacchi e vincenti, è stato un giocatore fondamentale in moltissimi dei match disputati, dimostrando di avere in campo quella freddezza dei grandi nonostante la giovane età. Il giocatore francese, ormai siciliano d'adozione, in questi giorni si trova in Francia per disputare i play-off di League B e tornerà in Sicilia in estate per riprendere gli allenamenti agli ordini di coach Placì. Ciao a tutti, sono Luca Basic. Sono molto contento di dirvi che l'anno prossimo giocherò di nuovo per la Saturnia. Sono onorato di fare di nuovo parte di questo progetto. Darò il massimo per rappresentare la città e tutta la regione. Non vedo l'ora di vedere i nostri tifosi che saluto e non vedo l'ora di sentire il loro calore e la passione che mettono. Ciao, a presto!